Vieni ad Amsterdam per una notte disordinata, stai lontano. Questo è il messaggio che la capitale olandese ha lanciato contro i turisti britannici. La campagna vuole scoraggiare i giovani inglesi che sempre più spesso organizzano feste a base di droghe e alcol proprio ad Amsterdam. Non siamo l'unica nazionalità che viene sotto questa strada e causano problemi. Non tutti è la stessa, abbiamo una grande reputazione dei britani, ma siamo venuti qui, sono calcoli, un po' di giorni, quindi credo che è un po' discriminatorio. Con circa 20 milioni di turisti ogni anno, Amsterdam ha cercato a lungo di frenare il comportamento violento, visto ad esempio agli addi al celibato, specialmente vicino al famoso quartiere a luci rosse. Secondo il piano del comune di Amsterdam, i turisti turbolenti rischieranno d'ora in avanti addirittura l'arresto per comportamento antisociale e in caso di uso eccessivo di droghe e alcol. Grazie. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, 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 sì. anche oggi ci sono persone che sono f***ati, non solo a la notte e anche alcune persone sono più f***ati oggi che a la notte quindi per me è abbastanza sicuro, e io sono una donna solita lavorando in una storia, non è proprio un problema